Lo studente numero 4 ha una situazione un po' particolare, deve fare una presentazione in tedesco davanti a un pubblico di madrelingua. Il tema della presentazione lo conosce bene, il problema è più il suo livello di tedesco che è ancora abbastanza basso. La domanda è in che modo può sopravvivere questa presentazione perché solamente il pensiero di stare lì sul palco e di fare questa presentazione crea già l'ansia e anche una vergogna immensa nel caso di errori oppure di una pronuncia un po' storta oppure anche il fatto di avere un accento e lui si immagina già a qualsiasi giudizio della gente. Secondo me è una cosa ovviamente un po' particolare, quindi non tante persone si trovano in questa situazione però possono immaginare il problema di fare, di superare questa situazione. Anch'io ho fatto una cosa del genere 5-4 anni fa in cui ero costretta a fare una presentazione anche davanti a un pubblico di italiani ed era la mia prima presentazione in italiano anche con un livello molto basso e posso assolutamente immaginare la vergogna che sente già e non è facile quindi la preparazione ovviamente è molto importante quindi di parlare anche in un modo abbastanza semplice di capire bene quello che vuole dire e di trovare insieme a qualcuno che può dare la mano le soluzioni, le frasi che sono abbastanza fattibili e abbastanza facili da ricordare quindi di non avere un livello troppo alto quindi di rimanere all'interno di un livello che è abbastanza fattibile. Ovviamente il punto di sentirsi male a causa della mancanza della lingua oppure solamente lo stress che ovviamente è creato da questa situazione molto particolare potrebbe anche creare stress e ansia nelle persone che non usano una lingua straniera ma la propria lingua quindi è una cosa molto molto comune e tantissime persone preferirebbero morire invece di fare questa una cosa del genere un'idea potrebbe essere ovviamente oltre la preparazione che deve essere molto profonda ovviamente di usare anche qualche oggetto oppure qualche materiale qualsiasi cosa che potete tenere in mano anche per fare qualcosa con le mani e per anche sentirvi un po' più nascosti o più sicuri se potete anche dare un'occhiata a quella cosa che portate con voi potrebbe essere carta magari ovviamente le vostre notizie oppure anche cose che potete mostrare durante la presentazione quindi già rende la presentazione molto più interessante ma anche è un modo per dire ok ho i miei capitoli magari porto con me due o tre oggetti che posso utilizzare durante la presentazione e posso tenere qualcosa in mano in più anche mostrare qualcosa e saprò cosa posso guardare se non voglio sempre guardare in faccia la gente durante tutta la presentazione in più se la lingua per voi è un problema potete già all'inizio fare un tipo di attacco quindi invece di pensare oddio ora comincio con la mia presentazione e chissà cosa pensano quando sentono il mio accento e poi sentono che faccio degli errori quindi un attacco potrebbe essere una soluzione per qualcuno in cui dite magari subito che siete stranieri e potete anche dire che magari farete una somma di diciamo 55 errori durante questa presentazione e le persone possono anche contare se trovano tutti questi errori fatto un tipo di scherzo per dire allora ci saranno un sacco di problemi durante la mia presentazione e li metto lì apposta e potete contare diventa magari una cosa abbastanza simpatica per dire io so esattamente che ho delle difficoltà e magari lo vedono un po' come una cosa di confidenza e di non di mancanza non di un problema quindi se scherzate sopra e dite subito di avere delle difficoltà e lo vedete un po' come un gioco per dire sì ovviamente farò degli errori questo è parte della presentazione è molto normale quindi non avete più paura di fare veramente degli errori durante la presentazione